Salve a tutti, sono Gian Vito e oggi vi spiegherò come installare la barra delle applicazioni del Mac che è questa qui che vediamo in alto Allora, andiamo su internet e scriviamo ObjectDoc Flow1 Allora, andiamo su un sito softonico scaricatelo qui e qui salva file ora lo installate semplicissimo io l'ho già installato e dopo di che andate dove l'ho installato lo aprite perchè si sarà formata questa icona qui su Dexter e andate su ConfigureDoc opzioni lingua che sarà in inglese al posto di quello che ci sarà scritto cioè Default andate cliccati sui tagli ok chiudi bene la guida è finita e alla prossima alla prossima grazie 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 grazie